Grazie a tutti. Indimenticabile Violetta nella traviata di Verdi, il soprano Rosanna Carteri fu una delle voci più affascinanti del periodo d'oro della lirica tra gli anni 50 e 60. Un libro, come spiega Armando Torno, che ne ha scritto la prefiazione, racconta la sua carriera breve ma costellata di successi. Una voce mitica che improvvisamente venne tolta alle scene. È una cosa che capita rarissimamente. La ragione incredibile che ha avuto per fuggire dalle scene si chiama Amore. Io volevo avere dei figli e ho detto o canto o faccio i figli e ho fatto due figli stupendi. Un talento fuori dal comune, un carattere molto forte, quello di Rosanna Carteri, che debuttò appena 19enne e dopo aver cantato nei maggiori teatri del mondo, decise a 40 anni, al culmine della carriera, di lasciare il palcoscenico senza rimpianti. Prima di chiudere una notizia di calcio. La storia mia è breve, La storia mia è breve, La storia mia è breve E che mi os vado per giù, e che rose, mi piaccio quelle cose, che ansi dolce mania, che parlano di amore, che parlano di sogni neri, che si invigrammo quelle cose, che hanno un poesia, e che lei mi intende, sì, Mi chiamano a me, e perché? Non so, solo mi vai, tanto da me stessa, mavo sempre a me stessa, ma prego sei signor, e vivo sola, solizza, lei non ha mai avuto. Sono particolarmente lieto, siamo tutti onorati di avere con noi il soprano Rosanna Catteri, che si onora. Grazie della partecipazione, auguri rinnovati alla signora Catteri, al marito che è qui presente, alle figlie, e vediamo di ritrovarci ancora insieme. Grazie a tutti. Rendo anch'io la parola per un saluto, un saluto di benvenuto anzitutto al signor Grosoli, alla signora Catteri, perché davvero l'eccezionalità della loro presenza, li ho citati insieme non a caso, non perché il signor Grosoli sia un tenore accanto al soprano, ma perché è l'uomo della sua vita. E la figura che verrà plasmandosi in questa conferenza, vedrete, che mette la musica come il tono armonico di una figura di vita. Non dico altro la parola al dottor Torno e alla signora Catteri, che ci canterà la sua vita. Grazie a Monsignor Borgonovo, grazie al professor Caloia per le loro parole, e una grazia a tutti voi di essere qua, grazie a Rosanna Catteri. Io, dopo tutte queste grazie, però vorrei entrare proprio in argomento. Innanzitutto c'è una lettera del dottor Roberto Napoletano, che è stato bloccato, non è riuscito ad arrivare, ha mandato una mail e tra le altre cose è un po' addolorato, però lo possiamo perdonare. Anche perché scrive Napoletano la figura di Rosanna Catteri, che con la sua voce ha incantato il mondo della lirica e al tempo stesso, con la sua scelta del silenzio, il ritiro dalle scene per dedicarsi alla famiglia, ha saputo unire al mito dell'artista una straordinaria ricchezza di sentimenti. Mi scuso con tutti voi. L'occasione per ritrovarci con Rosanna Catteri è molto semplice. È stata pubblicata lo scorso anno, ma agli inizi di quest'anno, da Marsiglio, una biografia curata dal professor Paolo Padoan, che ripercorre minuziosamente la vita di questa cantante. Ha debuttato all'Opera di Roma, alle Terme di Caracalla, quasi improvvisamente è stata messa in scena dopo una prova del pianoforte con Lohengrin. Aveva 19 anni, non ancora compiuti però. Non ancora compiuti. Ecco, non ancora compiuti. E tenete presente che la prima volta che ha cantato, invece, aveva 13 anni, signora Catteri. Sì, avevo fatto un concerto a Torri del Benaco e quando c'era stata una cosa particolare è che quando entrai in palcoscenico guardai la platea, erano tutti soldati tedeschi. C'era la guerra? Eh sì, altro che come. Ad ogni mia romanza mi applaudirono e alla fine del concerto fu un grande successo, un trionfo, possiamo dire. In seguito feci degli altri concerti con grandi cantanti lirici, all'epoca come Orelliano Pertile, Benemeno Gigli ed altri. La cosa clamorosa è che Rosanna Catteri ha detto di no a Hollywood. Io vorrei trovare oggi un soprano, una donna italiana che dica di no a Hollywood. È quasi impossibile, è praticamente impossibile. Comunque, Rosanna Catteri disse di no semplicemente a Hollywood perché aveva una famiglia, non poteva rimanere in America, teneva più alla famiglia che non alla carriera di Hollywood. Io sono una mamma felice, adesso sono una nonna più che felice. Benissimo, direi che questa è la confessione più bella. Sì. Ecco. In questo libro troverete la ricostruzione di una delle carriere più belle della ririca italiana. Quando Rosanna Catteri cantava c'era ancora Toscanini, il quale di voci se ne intendeva. Ecco, io vorrei proprio così leggervi una cosa molto semplice che lei ha scritto ed è, e sono le sue prime mondiali. Era la cantante preferita da Poulenc e quindi ha fatto delle prime di Poulenc parlando direttamente con Poulenc. Poi c'è il linguaggio dei fiori di Rosellini alla scala, c'è l'opera Darao di Becco, c'è Gloria di Poulenc, d'accordo, c'è la Vivi di Mannino al teatro San Carlo di Napoli, c'è Delitto e Castigo di Pedrollo a Venezia. Ma la cosa più bella che rimane di lei è l'estrema semplicità con cui ha affrontato la musica, eccetera. Quello che impressiona è una voce che non ha tentennamenti, che non ha problemi per essere rifatta. Oggi sappiamo che le incisioni, grazie all'ingegnere del suono, sono costantemente riprese, sono costantemente aggiustabili. Quando cantava lei tutto questo non era possibile. La sua voce era limpida, lineare, immediata. Cioè è una delle voci più pure della lirica italiana. Tra l'altro, voglio dire, qua in sala abbiamo Simonetta Puccini che è venuta a renderle un omaggio. Sì, grazie. Questo mi ha fatto un grande piacere. Si sa che Puccini è un autore che molte volte non ha pietà per le voci, richiede una dedizione, richiede delle prove. E Rosanna Carteri aveva sempre a che fare con dei direttori d'orchestra esigentissimi. Nel libro c'è una storia. La storia che voi potete immaginare è quella di una voce che, diciamo così, debutta non ancora a 19enne e a un certo punto si ritira per amore, solo per amore. Il responsabile di questa storia d'amore l'abbiamo qua davanti, che è Franco Grosoli. Devo dire che quando io ho fatto ricerche per capire come è avvenuto il matrimonio, mi sono trovato vari articoli del Corriere della Sera dove era annunciato il loro fidanzamento. Il vostro fidanzamento era annunciato accanto agli articoli di Soraya che in quel momento aveva qualche problema con lo Shah di Persia. La cosa più bella poi è stato il matrimonio perché il matrimonio è avvenuto a Verona. L'ha celebrato il vescovo di Verona ma lo sposo non riusciva a entrare nemmeno. Poi magari le chiederemo una testimonianza ma c'erano talmente tanti fotografi, le televisioni, c'era tutto questo. Nessuno riusciva a entrare in quella chiesa e lui disse una frase poi vediamo se ce la ripete poi lo chiederemo anche un intervento di Franco Grosoli disse o mi lasciate entrare o siete qua per niente perché io sono il diretto interessato. E io che cosa faccio? Sono uno sposo. Con la sposa davanti. E poi sappiamo anche che il marito ha insistito perché lei continuasse a cantare ma lei ha preferito dedicarsi ai figli. i figli sono qua Marina e Francesco. Quello che io voglio dire è che Rosanna Cartieri è testimone di un mondo che ormai è avvolto dal mito. Il mondo del canto, il mondo della tradizione musicale, il mondo, diciamo così, della musica ha attraversato varie fasi. Non fu una persona che si negò anche dei momenti diciamo così di leggerezza. Partecipò al musichiere di Mario Riva tutti se lo ricordano perché oltre ad aver prestato la sua voce e la sua presenza non dimentichiamoci che era una bellissima donna poi vedremo le scene. Non dimentichiamoci che questo fatto di essere presente nella prima televisione portò per la prima volta nelle case degli italiani delle scene di lirica. Molti italiani non avevano mai visto le opere. Le avevano sentite magari alla radio. Sapevano che all'arena di Verona alla Scala c'erano ma non riuscivano ad andare e per la prima volta videro le opere grazie al piccolo schermo della televisione e videro Rosanna Carteri che interpretava la Traviata che interpretava Otello che interpretava tutte queste parti ovviamente come sapeva interpretarle lei. Poi si concesse anche e abbiamo trovato poi ma questo sarà una sorpresa finale abbiamo trovato anche una sua partecipazione ad esempio al musichiere di Mario Riva lo dicevo e lì cantò una canzone che gareggiò anche per Sanremo nel 59 e nel 60 quando viene la sera cantata da lei un'altra cosa non pensate che sia quella ma tra l'altro mi sembra che con Mario Riva lei abbia vinto allora si usava così non era una televisione con molte pretese si vincevano ogni risposta due galline padovane alla fine lo studio aveva 120 galline padovane sembrava un pollaio Rosanna Carteri fa parte di questo fa parte di una televisione che sapeva divertire fa parte di una lirica che in fondo è diventata un mito fa parte di un mondo dove i direttori d'orchestra sono diventati dei punti di riferimento e sostituibili e io vorrei aggiungere una cosa a quanto ha detto Monsignor Borgonovo perché è stata chiamata Rosanna Carteri qua proprio in questa senata di inaugurazione al museo del Duomo di Milano e il museo del Duomo fa nascere questa scuola della cattedrale e parlando con Monsignor Borgonovo Monsignor Borgonovo è anche un grande intenditore di musica parlando poi con i responsabili della veneranda fabbrica il professor Caloia ma anche il professor Paratta che poi chiameremo in causa abbiamo detto c'è una cantante che al di là di tutto non ha avuto storie tumultuose come la Callas non ha avuto chiacchiere di ogni genere ma è stata una cantante che ha trionfato su tutte le scene e poi si è dedicata alla famiglia è un esempio meraviglioso capita capita una volta nella storia della lirica però portiamola una volta e portiamola in Duomo per far vedere che in fondo si può vivere anche senza dare scandalo si può vivere anche amando semplicemente e allora abbiamo pensato di invitarla qua questa sera e di farle fare da madrina per il fondo di musica che ovviamente aprirà i suoi diciamo così i suoi scaffali perché ci sono 600 anni di musica nel Duomo di Milano però io vorrei farle una domanda signora Carteri ecco lei ha risposto al TG1 ha dato una domanda le ha fatte una domanda più lunga però io vorrei chiederle qualcosa delle sue colleghe perché lei ha avuto come amica la Callas con la Callas avete avuto anche degli scambi vivaci lei ha sostituito la Tebaldi cioè vi scambiavate i ruoli poi lei poi le farò un'altra domanda sui direttori d'orchestra ma come erano questi personaggi che oggi noi guardiamo come si guardano le immagini sacre insomma io ho un ricordo esattamente della Callas e ero a Firenze che cantavo un'opera naturalmente anche in quell'epoca lì gli impegni erano un po' qua e un po' là e si doveva fare tutti e due come si deve e io andai eravamo a Firenze all'hotel e io scesi giù di corsa perché sapevo che dovevo prendere un treno così e so che poi quando l'ho salutato così buonasera buonasera quando sono uscita il giorno dopo qualcuno mi ha detto che lei a Callas ha protestato e ha detto questi giovani non hanno un senso del morale della bravura di quello che sono io e questo era lei però io non ho mai fatto nessuna nessuna storia con lei l'ho sempre guardata ho seguiata e non è mai successo niente anche con la Tepaldè so che lei a Parigi è stata pagata più della Callas e so che il direttore del Figaro le ha mandato quel biglietto per l'invito all'autore d'argent tutto questo è abbastanza clamoroso suppongo io non lo so questa storia se sono stata pagata più di loro però è stato un periodo molto bello è stata veramente ho fatto la traviata con grande grande gioia perché c'era un ambiente stupendo senta adesso io le chiedo qual è stato il giorno più bello della sua vita anzi sono stati due prima quando ci siamo sposati io e il mio consorte è qua io lo chiamo in causa adesso e poi quando sono nati i nostri due figli eccomi qua anche loro sono anche loro allora senta io io poi chiamerò in causa anche il marito perché il marito lei sa che Franco Grosoli cavaliere di Gran Croce persona notissima eccetera però ha commesso un delitto nei confronti della musica qualcuno dice lei lo può assolvere sì ma certo no no c'è una cosa signora Cateri lei mi ha confessato una cosa in un biglietto quello che poi metteremo all'asta ovviamente dice a proposito di maestri ricordo un episodio diciamo così bellissimo di Toscanini al teatro alla scala era seduto in platea mi ascoltò poi salì in palcoscenico è vero la chiamò mi chiamò mi chiamò il pianoforte perché Toscanini era un patito subito di delle prove molto bene lui allora eseguì dei brani musicali mi fece degli elogi di un futuro radioso mi disse che avrei avuto un futuro radioso poi fece un'esperienza bellissima che non dimenticherò mai Toscanini le parlò un po' della sua voce le disse qualcosa di quell'episodio vuol dirci un piccolo ricordo cosa è successo sì io ricordo molto bello naturalmente eravamo alla scala lui era giù in platea e cominciò a dire cominciò a cantare perché era un uomo molto autoritario autoritario e io cominciai a cantare lì ma dopo un po' una romanza due romanze alla terza salì su e c'è la pianoforte lì sul palcoscenico si è messo seduto mi è cominciato ancora vedi devi cantare questo quello quest'altro ed era stato per me mi ero anche un po' tranquillizzata perché ero agitatissima e così è stato un uomo che mi ha mandato persino per il Natale successivo un bellissimo quadro con tanti auguri di buon Natale Toscanini e questo ce l'ho in camera mia appeso senta signora Cateri invece nel libro nel libro ci sono anche le foto dei suoi film lei ha fatto un film con Sordi si ha fatto un film con Sordi e qui c'è una scena mentre Sordi canta io non so se Sordi nel film mi permette il papo eccolo qua c'è questa bellissima scena lei con Sordi eccetera Sordi come era? so che le mandava dei fiori ha suscitato ha suscitato delle gelosie era venuto prima mi pare o Firenze in qualche altra parte per congratularsi con me poi dopo era sparito e non l'avevo più sentito viceversa poi mi chiamò ancora ed era una persona mi permette il papo con quella lì era una persona tutta differente di quello che era il cinematografo era molto serio molto perbene tutto molto molto caro molto gentile lo riprendiamo da sopra il mio corpo e speriamo che sia l'ultima volta dica lei come si chiama? come come mi chiamo? Rodolfo Nardil è anche sul manifesto senta manifesto guardi che io adesso accenno non posso rovinarmi la voce per lei va bene andiamo soffre il mio corpo ma tranquillo l'alma mi confetto io sera un figlio ministro a religione toglievo i sofferenti e questa notte è di tranquillo il sonno o raggio dunque lo ha come la scienza non è lontano cosa va? accenno come lei si alzi lei accenna io accenno ma che accenno è no deve provare sul serio noi proviamo per lei solo per lei vorrei mandare e la vedranno qua dietro i nostri ospiti il pubblico delle scene di lei che interpreta la traviata ci sarà anche la scena del brindisi è la televisione degli anni 50 quando le opere venivano trasmesse alle 3 alle 4 di notte le possono vedere solo coloro che hanno il mal di denti attualmente o i nottamboli accaniti che però non le vedono in ogni caso questa era la Rai che faceva cultura e lei ha dato immagini appunto questa è una cosa molto bella che la musica italiana deve essere ancora amata e ricordata non abbandonata signora e la sua voce la sua voce guardi che è unica non so ciò che non è che a fare godi un po' di raffreddore il godio dell'amore più peor che di un teore e più si può grudere e ti amo che in vita che in vita un cuore che non si parla che non si parla che non si parla e non è che non si parla che non so che non so Grazie a tutti. 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 soprattutto ai massimi livelli. E con una qualità artistica completa, naturale, così potente, mollare tutto questo, vuol dire sì amare persone, ma anche avere un equilibrio formidabile. Cioè la capacità di poter scegliere nella vita, una delle cose più difficili. E questo si avverte nel palcosenico. Quando lei canta, quando è sul palcosenico, che è il suo ambiente naturale, lei lo domina. Lei sceglie. Sceglie dove stare, sceglie come cantare. Ha una quantità di sfumature naturali che sono impressionanti. Cioè se io penso, anche senza sentire, mi vengono i brividi. Cioè sono quelle cose che ognuno di noi non perde più nella vita. E non si può dire molto di più, perché l'unica cosa è una grande ammirazione come persona e come artista. Per chi ama il mondo dell'arte è una sofferenza che non abbia continuato. Ma per chi sa affrontare un pensiero più grande, una dimensione più grande, cioè quella della vita, e saper scegliere dove stare, è questo. Credo che su questo meriti l'applauso più grande che si possa fare a una persona. Quando si parla di un cantante è sempre un'impresa molto difficile. Io tenga presente che nella prima parte della mia vita ho fatto il critico musicale e poi mi sono pentito perché è un lavoro infame. Quando si parla bene di qualcuno, la persona in questione dice finalmente mi ha riconosciuto. Quando si rilevano dei difetti, apriti cielo. E allora si fugge, perché poi si cerca di avere quella libertà che magari è suscitata dall'amore della musica. Io posso dire semplicemente che non ci sono molte voci che rimangono eterne nell'immaginario collettivo. Ci sono alcune voci che diventano mitiche, alcune voci che si ricordano per la testimonianza dei contemporanei. Non abbiamo la voce di Maria Malibran, però tutto l'Ottocento ne ha parlato, tutto l'Ottocento è rimasto incantato. Non sappiamo, che so io, come cantava il Farinelli, ma sappiamo che la corona di Spagna lo pagò addirittura più delle possibilità, perché faceva passare la malinconia al re di Spagna. Non sappiamo come hanno cantato alcuni, che so io, interpreti di Mozart, perché dobbiamo fidarci delle memorie. Però da quando c'è la registrazione possiamo almeno dire che alcune cose ritornano tra noi. Io penso che la voce di Rosanna Carteri non soltanto non è stata strappata dai palcoscenici, ma continua a lavorare, continua a essere uno strumento che molti altri ascoltano, che molti altri utilizzano non soltanto a scopo didattico, ma anche per il piacere. E questo mi sembra che sia un po' l'omaggio che questa sera le possiamo fare. semplicemente qui, inaugurando questa scuola della cattedrale, le cattedrali hanno sempre avuto delle musiche meravigliose. Noi semplicemente abbiamo ospitato la sua voce questa sera, con i filmati, con le sue testimonianze, con lei. Ecco, io però vorrei chiederle in chiusura magari una piccola cosa, qualcosa che si sente di dire, qualcosa ai suoi figli, ai suoi grandi amori, al marito, a tutti, a un pubblico, a un pubblico che questa sera è venuto solo per lei. Cioè, gettare tutto così il palcoscenico, dire di no a Hollywood, per amore, solo per amore. Lei oggi lo rifarebbe? Altro che, perché mi hanno dato tanta gioia, sia loro e adesso anche loro figli. Cosa posso desiderare di più? Stamattina io ho avuto una dozzina di telefonate, infatti non riuscivo più a liberarmi dei vari melomani, dalle persone che la seguivano. C'è questo pubblico che non smette di amarla, cioè le ricambia questo incredibile amore. Semplicemente, se vuol dire un pensiero... Grazie infinite, questo mi commuove, devo dirlo, perché il ricordo di quello che ho fatto, quello come ho cantato, è veramente una bella cosa che vi ringrazio di tutto cuore. Bene, signora Cartieri, io sa che devo fare una... Allora, tenga presente che io devo fare una confessione, signora Cartieri, la faccio anche al pubblico, tanto non abbiamo niente da perdere, possiamo confessarci ogni tanto, siamo in Duomo, meglio di qui, non si può fare niente. Io non ho rispettato la scaletta, ho fatto tutto di testa mia e sa perché? Perché volevo farla parlare, perché per me era importante anche sentire così la sua piccola cosa, le sue espressioni. Vorrei ringruziare lei, vorrei ringraziare il marito Franco Grosoli, vorrei ringraziare Marina e Francesco che sono qua, i suoi figli, vorrei ringraziare tutti coloro. Non posso fare l'elenco dell'autorità, c'è l'ambasciatore di Monaco, ci sono tante persone, è venuto veramente un mondo a renderle omaggio. Guardi, è incredibile, io vorrei ringraziare la scuola della cattedrale che ci ha permesso questa libertà. Di venire qua. Io sono un cattolico ostinato, credo che soltanto nella chiesa ci sia la vera libertà. Io la penso come lei. Benissimo, siamo in due. È una meravigliosa. Faccio gli auguri, ringrazio Rosanna Cartieri, ringrazio tutti voi e grazie anche per questa bella partecipazione, ringrazio gli operatori della RAI, ringrazio tutti i tecnici che hanno permesso anche i montaggi e tutte le cose. Grazie, alla prossima. Il tuo futuro, Canolo, io vorrei sapere, la tua professione, come la vedi? Visto che da tre anni o qualche cosa... Sì, sono tre anni che non canto perché dopo la nascita del mio secondo bambino ho smesso e anche perché sono affetta da mammismo, appunto, non sono più capaci di lasciare i miei figli. Non lo so, continuo a rimandare, vedremo. Allora, la televisione si chiude a questo punto. Ringrazio Lilla Brignone, ringrazio Rosanna Cartieri, ringrazio il pubblico presente, ringrazio Eddie Ottotz e con la sigla che ti riguarda, Rosanna, perché è tratta dall'Ave Maria, cioè è l'Ave Maria dell'Hotello di Verdi, noi salutiamo il pubblico e arrivederci. Salve Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. Sia benedetta il frutto, o benedetta, di tua impaterne viscere, Gesù. Salve Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. Salve Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. Salve Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. Salve Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. Salve Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. Ave Maria, piena di grazia, benedetta per le spose, le vergine sei tu. è l'ora dell'ora dell'amore. Amen. 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 Grazie.